Non hai comprato l'aereo, ma non sei nemmeno te Simo! Sì, guarda, sono io! Stai facendo un disastro! Te la rimetto dentro, ma fai il bra... Questo è il mio ufficio. Hai pagato l'affitto? Sì. Sei sicuro? Sì. Sei sicuro? Giuro. Assolutamente no. L'ho pagato. Non hai pagato. Giuro su di me, non è il mio ufficio. Io non esiste. Questo è l'ufficio. Quanto hai pagato? Io comunque esiste, eh, io mi dissono. Sì, è vero, è vero. Va bene, esiste. Scherzavo. Deve romper sempre il cazzo, mamma mia. Vabbè, quindi quanto hai pagato? Che il prossimo ufficio diventa. Quanto costa? Quanto costa? Duemila. No. Duemila al cento? Sì. Eh, vabbè, se non lo sai. Perché non l'ho pagato io? Ti avessi stato il mio commercialista. Oh! Sorrettenza, direttore! Punto a noi! Giusto così. È sorrettenza! È giusto così, ci vuole un po' di violenza in questo. Un po' di hype per la partita, no? Un po' di pe... Potete fare una... Oh! Woo! Sì. Attenzione, perché io ho paura a commentare, perché secondo me Valerio l'ha un po' subito questo schiaffo. Cioè, secondo me sta uscendo un po' dal personaggio, perché potrebbe avergli fatto del male. Signori e signori, musica maestro, fra 30 secondi darò il via. Vai cavallo! Chat, voglio vedere uno spam! Oh, devi stare zitto! Voglio uno spam in chat di O. Signori, tirate le corde in posizione. Vi ricordo che vince il giocatore che fa arrivare la corda bianca fuori dal tappeto. Cinque! Quattro! Tre! Due! Uno! E no, ragazzi, non è via. Non è via! Non è via! Non è via! Non è via! Ragazzi, non ho detto... Non ho detto via! È la portata! No! Simone! Simone! Non c'è tempo! Non c'è tempo! Simone! Per favore, non c'è tempo, grazie! Ritirate! Devo dire via! 3, 2, 1! Via! Tre! 1, via! Oddio! Parte il rosso e spinge. Valerio Mazzini e Cupola. Ed è vittoria! Vittoria! Schiacciante per l'Inter! Se vuoi ti consiglio cosa farci con quella corda, rosso, eh? Sei un co***o! Ma sei co***o! Sei un co***o! Sei una merda, bro! Per favore, faiamole bette regia! Per qualcosa mi ha interesso, perché solo forse Simone vincerà. Va bene, questo vale, questo facciamo che vale per... Vabbè, ci sta per la corda, va bene. Ma non pagate questa, pagate a fine del turno, cioè dopo tre sfide, dopo tre sfide della corda pagate chi ha vinto, ok? Ah, perché ci sono tre round di corda. Adesso tocca un altro e un altro. Ok. Faremo velocissimo. Equilibrate. Sceglierò io. Adesso, giusto per essere proprio parziali. Alice contro Gaia Bianchi. Vai Gaia! È nostra, Alice! Vai, ce la fai! È nostra, Alice! Ce la fai, guarda! Sei così, di una sculacciata così, pam! Ce la fai, ce la fai! Guarda quanta è mingerlina, oh! Ma vai tranquilla! È il ciclo? Non ci sono... Ma ragazzo non c'è il ciclo! Ragazzi c'è... Eh vabbè! Una c'è il ciclo, una c'è le mani abbrate e c'è un cazzo enorme! Non c'entra nulla, scusate! E che avete anche fatto palestra! Allora, se vi interessate, ve lo dico! Ragazzi, cortesemente, se riuscite a tirare le corde, la tenete un po' tesa! Partiremo subito, ragazzi! Un po' di musica! In un tanto scivolo! No, non scivolo! Come si fa più qua? No, no, serio, guarda! Aspetta, facciamo un consiglio! Adesso, quando tiri... Ah, ah! Esatto! No, no, scusate! Brava, brava! Mamma mia, che si spacca il brazzo! Ho scritto in chat! Cazzo fai, oh! Dovete seguire me, punto! Non dovete prendere iniziativa, decido io! Quindi questa vale per le bet della corda, punto! Sì, sì! Speriamo, vinca! Musica! Topino! Cominciamo a tirare, se non poi io! Sei in ansia? Eh, con Berlini! Bisognava dirlo prima, speravo che i mod fossero intelligenti. Gaia! Contro Alice! Fra tre! Due! Uno! Vai, Alice! Vai, Alice! Sì! 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 Vai, girati! Durata! Ma non si fa! Oh, non farlo mai più! Sì, dice no? Chi mi hai spiegato? Le due banalistiche? Se me non fai, se non fai, se non fai, se non fai, se non fai. Sì, scuola! Le canzoni da vera! Cosa avete fatto, certo, prima? Ok! Ok, io non mi faccio più in quella attura sicuri ora, basta! Mi avete deluso, mi avete deluso! Sì, è il turno di humoristica, ti faccio vincere! Ed è il turno di Frattino contro... Francesco Sole! Ma che stai compiando? Non si conosceva, non si conosceva. Tu ne hai visto il film di Alculez? Io sì! Ma non faceva così! Questa gente è stata la strada! Questa è la Batman! La si segga! Signori, musica! Aspetta, con che braccio devo tirare? Con il testo sempre si fanno le cose! Non metter il piede sul tappento, Frattino! Se sei destrozo... Se tu lasci e mi fai sbattere lì, io ti massacro! Aspetta! Ma lui è nato stronzo, lui è nato per essere stronzo! Signori, occhio alla penna! Perché questa è la decisione! Siamo sul punteggio di 1 a 1! Ciao, sull'emoticon! Ma cos'è che lo faccio? 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 Come si fa? Non lo faccio! Così? Simone! Al mio 3! Non fare il giro ai pulsi! Al mio 3! Scatenate! Che? Vabbè, sei così forte! Io l'ho lasciato mondo! Anch'io! Al mio 3! Scatenate l'inferno! 1! 2! Ma aspetta! Ma non ho manco detto 3! Ma non ho manco detto 3! In posizione! Ma che sai che c'è proprio qua? È topino! Ti posso contare? Ma ce la faccia è il topino! Sprovo! Devi dare il topino! Fermo così! Ma dovete conoscire già a tirare prima, non è che altri dovete fattare! Ma mi ha spaccato una costola! Topino! Topino! 3! Aspetta! Così no! Te lo dico giù! Metti due piedi mezzi per terra bene basso! Così! Musica! E toglio dietro se non sbatte! 3! 2! 1! Via! Ma cos'è? Ma cos'è? Ragazzi! Vado oltre qualità! Fratino, meno male che stai fai passaggi col pallone! È proprio come un pinguino! Ma non me lo dici di me ozzine che fa una cosa del genere? Un pinguino! Signori! La vittoria! Del primo round! Del 3 di 3! La vince! Il Milan! I diavoli rossi! Sì! Succa! Succa! Valerio! Succa! Guarda! In faccia di arrivare un altro morale! Avevi la slappa scarciata! Avevo la slappa sguarciata! Capito? La figa è slabbrata! Sì, era il mio! Come fa? Aspetta un bel volo, eh! Signore e signori! È arrivato il momento! Aspetta, aspetta! Pagate, pagate! Non ho pagato? Pagate, pagate, pagate! Ci siamo? No, pagate, punto! Ragazzi, la vado perché vi faccio fare una bet! 18 sfide e vi faccio fare una bet sola? Cioè, io vi faccio bettare più punti così potete perdere e vincere! Più volte! Non è che dovete stare a bettare una volta sola! Cioè, a logica! Dovete fare le bet per ogni cazzo di sfida! Non generali! Ok? Siamo sbagliati i colpi dei moderatori! Signori e signore! Arriva il momento! È una sfida difficile! È una sfida incredibile! Una sfida alla quale purtroppo non posso partecipare! Scusa se il vostro budget è due e non tre! Sei mesi che fai le live ti scordi il microfono! Karaoke! No, io non posso! No, ok! Esci fuori dalla live e vai a casa! Giusto? No! Eh no, così mi stavo detto! Mi raccomando, se rompono i coglioni trattali male! Lo script è questo, eh! È la sfida del karaoke! La chat deciderà! Il vincitore... Do cazzo devo guardare? Il vincitore delle tue squadre Sarà sempre un uno contro uno o a coro cantano? Chiaro! No, uno vio uno! Coro, coro, coro! Coro perché sennò qui la situazione è grave perché... La pere come la ricordo una volta a cantare, eh! Male, male! Malissimo! Sarà un 3v3! La chat sceglie le canzoni! Aspettiamo in chat dei consigli! No! Comincerà... Comincerà la sfida! La squadra che ha perso il turno antecedente, dunque... L'Inter! Fratino riscalda la voce che so che tu sei il migliore! Ah no, c'è anche Mazzei! Scusate! Era una gag, eh! Chia, tu sei pronta? Chia? Cioè, puoi fare anche la coreografia se vuoi! Ma c'è un po' d'aria condizionata qua! E si muta e la portano dal bar! No, la tasta è là! Ah, basta! Si può accendere! Ragazzi, no, per te lo fece il mio ma troppo spesso! Cioè, ci siamo limitati la... Cioè, quindi perché devo fare ora? Ragazzi, non mi sembra la canzone adatta, quella che avete spammato, onesta, per la squadra che c'è! Faccio le cose, eh! Faccio fare la versata a Fubè! Fubè! Ti prego! Ma così non è... Non c'è una biografia! Ti prego!